Lorenzo partiamo dall'episodio che ha deciso di fatto la partita, quel rigore molto contestato fischiato in favore della Costa d'Amalfi lì per un portiere c'è un bivio, esco o resto tra i pali? Ma nel momento in cui esci poi non è che puoi sparire e smaterializzarti? È stato un episodio sfortunato, purtroppo i portieri siamo un po' penalizzati su queste tipologie di azioni perché comunque diciamo che l'albito valuta molto la dinamica, io giustamente sono andato in una parata a contrasto la palla si è vista che è stata deviata, è stata anticipata da parte mia, purtroppo sull'inerzia dell'azione ho colpito l'avversario però purtroppo non ti puoi smaterializzare in quei momenti, però purtroppo l'episodio succede, non voglio malignare sulle decisioni arbitrarie o recriminare su queste situazioni, però una cosa, un passaggio lo voglio fare che già l'ha fatto la società ma anche noi squadra dobbiamo farlo sicuramente, purtroppo gli arbitraggi è un dato di fatto noi abbiamo subito svariati rigori contro, non abbiamo avuto nessuno a favore, sono statistiche, magari sarà un caso però al di là dei rigori dati, delle punizioni, io contesto molto le decisioni a livello gestionale nel senso che molte punizioni che sono dubbie o a nostro favore ci vengono sempre fischiate contro quindi un po' di dubbio ci viene, magari no di mala fede, ci mancherebbe, non esiste proprio però un attimo più di attenzione, un attimo più di professionalità da parte degli arbitri e della federazione che assegna per queste partite importanti ci deve essere sicuramente Anche perché insomma c'era anche una nettissima differenza di fisico tra te e l'attaccante della Costa Damalfi in linea generale però quella con la Costa Damalfi non è stata la vostra miglior partita Sì, quello dell'albitro non deve essere un alibi assolutamente, questo è fuori discussione però comunque non è stata una delle migliori partite nonostante non essendo stata una delle migliori partite non è che ci abbiano messo in difficoltà a livello di tiro in porto, di qualcosa sicuramente loro hanno dato l'impressione che potevano creare qualcosina di importante da un momento all'altro però credo che sia stata una partita storta, quelle partite che di tanto in tanto possono capitare nell'arco di un campionato è anche fisiologico, è difficile tenere la stessa portata per la durata di 15-16 partite di fila ma anche quando abbiamo perso le altre due partite abbiamo fatto delle prestazioni importanti quindi il risultato è stato solo frutto di episodi in questo caso è stato frutto di episodi però non c'è stata la prestazione sicuramente noi questo qua deve essere un campanello, non un campanello d'allarme deve farci capire che noi abbiamo bisogno di stare sempre sul pezzo, di lavorare sempre a 300 all'ora e così riusciamo a fare sempre delle prestazioni importanti La classifica comunque è rimasta sicuramente positiva, siete ancora lì non c'è tantissima distanza dal primo posto e comunque avete un abisso, un oceano da quello che resta ancora l'obiettivo primario però insomma parlare di playoff non è un reato tenendo conto anche che via via recupereranno dai rispettivi infortuni anche calciatori importanti dei quali avrete bisogno nel giorno di ritorno Sì ma adesso la priorità è comunque recuperare qualche giocatore che ci può dare una mano sicuramente nell'arco del campionato ovviamente noi saremo ripetitivi, dobbiamo volare bassi sicuramente è un obiettivo, adesso dobbiamo guardare anche dietro un attimo nel senso che siamo distanti 7 punti dai playoff nel senso che abbiamo da fuori i playoff quindi dobbiamo guardare questo in questo momento domenica c'è un crocivia importante per il proseguo una squadra che comunque ha una storia, ha un campo importante è un ambiente caldo sicuramente, sarà sicuramente un banco di prove importante anche per capire la reazione e la personalità che questa squadra ha diciamo la personalità e la capacità di reagire da un momento difficile tra virgolette di una partita un po' sottotono quindi al di là del risultato bisogna dare una risposta sul campo a livello di prestazione domenica quindi ci farà capire un poco a che punto siamo della stagione La difficoltà al netto delle qualità tecniche della Scafatese che ha cambiato di recente l'allenatore e quindi vorrà tirarsi su per le posizioni che più le competono potrebbe essere rappresentata dalle gigantesche dimensioni del terreno di gioco è un campo che anche dal punto di vista visivo avendo la pista intorno potrebbe dare qualche sensazione di smarrimento a chi è abituato ad allenarsi e a giocare su campi più stretti Sì, sicuramente le dimensioni sono diverse rispetto sia a Siano che a Roccapiemonte dove ci alleniamo e giochiamo in casa quindi credo qualche difficoltà potremmo avere però sicuramente in settimana stiamo lavorando proprio per cercare di trovare le contromisure Loro sono una squadra che hanno cambiato allenatore io conosco l'allenatore, sia da giocatore che un attimo da allenatore è un ragazzo molto preparato, una persona molto preparata quindi sicuramente saprà preparare benissimo la partita noi dobbiamo cercare di mettere in difficoltà comunque con l'intensità con la cattiveria perché comunque troveremo un ambiente caldo Loro si giocheranno tantissimo domenica diciamo tra virgolette secondo me le ultime chance per aggaggiare le prime posizioni quindi noi dobbiamo sicuramente farci trovare pronti quindi noi dobbiamo cercare di mettere in difficoltà